Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di Rocket Racing Finalmente è stata rilasciata la nuova modalità delle corse delle macchine su Fortnite E oggi andiamo a parlare di come sbloccare la skin gratis Jackie Oggi in live abbiamo visto tutte quante le novità della modalità e abbiamo capito un po' come funziona E soprattutto ragazzi il fatto che si farmano anche punti esperienza, ma parecchi, per il pass battaglia Quindi se siete indietro con il pass vi consiglio di sfruttare questa modalità Innanzitutto abbiamo tantissime missioni che vi aiutano a sbloccare coperture, disegni da applicare sulla Octane e sulla macchina base Ci sono anche queste da fare in classifica e adesso ne andiamo a parlare Che vi regaleranno ovviamente i disegni per la macchina, ma anche tanti punti esperienza e le ruote colorate Che queste ruote colorate dovrete poi personalizzarle e poterle applicare sulle macchine che si utilizzano in battaglia reale Quindi sarà anche quello molto interessante Ma la cosa più interessante ovviamente è la skin gratis di Jackie che abbiamo qui E si sblocca semplicemente facendo la posizione oro in Rocket Racing Oltre ci sta anche un'altra missione che vi dice di fare almeno 10 partite, 10 gare e vi regalo lo zen Prima di startare voglio ricordarvi di andare nel negozio oggetti e inserire il codice creatore Dave14 qui in basso per supportare il canale Soprattutto perché adesso nel negozio oggetti ci sono anche le macchine da poter comprare per utilizzarle su Rocket League Se anche giocate Rocket League E soprattutto da poter utilizzare nella modalità Rocket Racing e nella Battle Royale Come vedete scritto qua sopra La cosa è che si sono davvero molto belle Fantastiche da poter colorare tutto Però costano 2500 VBAC Quindi Se le andrete a comprare col codice Dave14 mi darete un grandissimo supporto Ma adesso andiamo a giocare e vedere un po' come funziona Come vedete qua io sono bronzo 1 Che qui non mi carica Mi dice fuori classifica però Vabbè Per giocare questa modalità ragazzi vi farà scegliere tutte quante le piste che volete utilizzare Qui ci sono tutte quante Sono davvero tantissime E ho notato che molte sono ambientate nel canyon Nel bioma del deserto Quello del capitolo 3 sembra Potete scegliere una qualsiasi pista Cliccare e fare una partita pubblica Se volete giocare con altre 11 persone Perché il massimo sono 12 Oppure in privato se volete giocarla da soli In singolo Oppure con qui avete il lobby Ma la modalità principale è Racing in classifica Che è questa qua sopra E ha già 232.000 persone che la stanno giocando Oggi era baggatissima e i server non andavano Infatti non sono riuscito a registrare subito il video Se questo video arriva tardi raga È perché purtroppo i server delle macchine Delle rocket racing non andavano molto bene Semplicemente cliccando qui E se facendo seleziona Adesso mi mette in coda Per andare a fare una partita ranked Cosa succede in questa partita ranked? Semplicemente gioco contro altre persone E in base al punteggio che faccio Della posizione e tutto quanto Mi farà scalare la classifica Come le ranked La mappa O cioè la pista che andremo a giocare Dovrebbe essere randomizzata O da quello che ho capito In base al rank che abbiamo Mi fa scegliere le piste più vicine Quindi se sono nel rank basso Mi mette nelle principianti Se sono più alto Poi vado nelle avanzate E poi ci sono quelle esperte Che sono molto più complicate E molto più lunghe La cosa bella raga È che a me la modalità piace tantissimo Le macchine a personalizzare ci stanno Quale da comprare Un pochino di meno Spero di livellare un po' il pass battaglia Così la becco dal pass Ma La cosa migliore Sono il fatto che regalano davvero Tantissimi punti esperienza Ci sono partite E missioni giornaliere Infinite Che si possono ripetere Basta fare una gara Che vi regalano 1000 XP Più facendo ogni volta Queste qua Che si aggiornano all'infinito Pigliate altri 1000 XP Sono davvero tanti Più ovviamente bonus giornalieri Che completandone altri Bla 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 Come le quest giornalieri Però del battle royale Quindi io direi Almeno una volta al giorno Se volete completare un po' di livelli Giocate la rocket racing Fatevi due piste E vi beccate un po' di XP Ok come vedete Adesso sono in coda Questa qui è la pista Ci sono tante altre persone Contro di me Siamo in 12 E adesso si inizia Consiglio che vi do ragazzi Appena vedete il simbolo Che va sul verde Premete subito il tasto Per correre Che vi da un boost Velocissimo Tipo alla Mario kart Qui ho appena Griffato la partita Sono un babbo Potentissimo Io di farvi un tutorial Per spiegarvi Come si gioca Penso sia poco utile Perché comunque C'è la modalità tutorial Del gioco Però Vi do un bel consiglio Sfruttate bene Sfruttate bene in rettilinei Il boost che vi si carica Quando fate le derapate E ovviamente Schivate gli ostacoli E guidate il meglio possibile Ma quello Penso sia una cosa Che non c'è bisogno Che ve la dico Attenzione raga Sono primo In una ranked Di persone Che la stanno giocando Però Secondo me È una modalità Molto chill Per svagarsi Per divertirsi un po' Ma anche Per chi è appersonato Di Rocket League E quindi vuole un po' Guidare in modo diverso Invece di dover fare Gol Per forza Per me È una grandissima Giunta per Per questo gioco Ci sta un casino Una cosa però Le macchine Da pagare 4000 V-Buck Nel negozio Oggetti Anche meno Attenzione Ma sono una bestia Mamma mia raga Sono troppo forte Non vedo nessuno Sotto il mio Culo della macchina Vuol dire che Non c'è nessuno Che mi sta Attaccato Ok Ok Qui sbando sempre Perché non È difficile Fare lo switch Bellissima derapata Boost Olè raga Sono troppo forte Ma Cosa è successo Mi sono schiantato What Ma E come Sono esploso Che senso Ok Forse c'è qualche bug Oppure Boh Non ho capito io qualcosa Però mi sembrava Non tanto necessario Questo Oddio raga Sto griffando la partita Cosa ho fatto Ok Sono anche io Un po' Una pippa Eh c'è da C'è da ricordarlo Questo Però Però La portiamo a casa Con Primo posto Tutti e tre I round Tutti e tre I giri Ma sono fortissimo Gli altri Non sono ancora arrivati Raga Ma ero stra avanti Oddio Poi Basta cliccare Riepilogo Gara in classifica E adesso Dovrebbe farmi vedere Quanto salgo Ok Ok È molto più difficile Di una ranked battle royale Vuol dire che devo fare Molte più partite Però Ci sta Ci sta Ci sta Oh Eccoci qua ragazzi Ecco qui lo zainetto Zaino diesel È praticamente la macchina Che c'è nel negozio oggetti Credo Però è Lo zainetto Da sbloccare Quindi ci sta Gratis Sbloccato Lo zaino diesel Bello Carino Sarà personalizzabile Vediamo un attimo Se è personalizzabile Lo scopriamo in diretta Ragazzi Vediamo se Funziona Si può personalizzare Applica Ok Non mi fa selezionare No Non è personalizzabile Quindi è solamente La macchina in rossa Vabbè Ci sta comunque Carino Serve un po' di tempo Per farle ranked Quindi arrivare Rank oro Sarà molto lungo La skin è davvero bella Gratis per tutti quanti Avete tempo Fino a fine stagione Da quello che ho capito Quindi Avete tutto il tempo Che volete Queste vacanze di natale Passatele a rancare Su rocket racing Perché la macchina La skin Scusate È davvero molto bella Detto questo ragazzi Io non ho altro da dirvi Ho un video molto rapido Molto semplice Ci vediamo al prossimo Dove vi farò vedere Tutte quante le novità Di fortnite festival Che verrà rilasciato Il giorno dopo Questo video Quindi Ci vediamo Ciao a tutti